La carta dei partitini, noi con Berlusconi, il centrodestra si organizza. Allora, su questa cosa, così la pagina politica ce la cominciamo subito a togliere e poi parleremo di altro. Andiamoci a sentire Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, che ci dice esattamente come sono le cose all'interno del centrodestra. Brunetta. Ultimi sondaggi, il centrodestra verso il 40% e la sinistra in frantumi. Scende in pista Grasso, presidente del Senato, e Renzi trema, perché se Grasso va al 10% con la sua sinistra a sinistra del PD, matematicamente Renzi va sotto il 20%. Bene, vedete quindi che la soddisfazione, l'atteggiamento estremamente positivo di Brunetta è anche legato al fatto della nascita di libri uguali, di Grasso e dei fuoriusciti del PD, perché evidentemente tolgono voti, tolgono appeal al Partito Democratico. Una risposta però a Berlusconi gliela dà subito Toninelli, deputato dei 5 Stelle. Berlusconi è un simpatico signore che ha causato in mani disastri al nostro paese, fa battute e stessi slogan da 30 anni. Si impegna solo a fare ammucchiate con leader come Salvini, mentre noi ci impegniamo a attuare il programma per migliorare la vita degli italiani. Vedete sempre sulla stampa, nel riguardatino, c'è questa intervista a Guerini, che è uno dei vice segretari del PD e che ci dice che nei collegi sarà sfida PD Grillo, quindi c'è invece un atteggiamento più positivo, più ottimista da parte del PD. E vediamo cosa gli risponde Salvini, che ieri ha avuto una lunga e importante interesse, e divertente direi anche, che è remessa a Santi Apostoli a Roma. Andiamoci a sentire Salvini. Appena il PD si degnerà di spiegare, non a me, ma agli italiani, quali sono i collegi elettorali, ovunque si candiderà Renzi ci sarò candidato anche io. Piazza per piazza, strada per strada, città per città. Vita vera contro le bugie. Non vedo l'ora, magari di partire dalla sua Firenze.